Arrivato almeno in apparenza vicino a un possibile accordo per dirsi addio consensualmente, il rapporto tra Comune di Como e Multi-Investment, la società che si aggiudicò la reaticosa nel 2006, rischia di riaccendersi soltanto nelle aule di tribunale. Come noto, nell'ottobre del 2016 la multinazionale propose a Palazzo Cernezzi un'intesa per stoppare ogni progetto sull'area di Via Grandi, ma nel contempo senza innescare nuovi contenziosi. I punti qualificanti della transazione proposta dai privati erano la risoluzione consensuale del contratto firmato nel 2006 e la rinuncia sia da parte di Multi sia da parte del Comune a qualsiasi richiesta risarcitoria, la restituzione da parte dell'amministrazione a Multi dei 450 mila euro versati a titolo di caparra e la rinuncia del Comune a escutere la fideiussione di 3 milioni depositata a suo tempo dai privati. Ma proprio su queste richieste la trattativa per il divorzio consensuale si è definitivamente arenata. Per dire no all'ipotesi di accordo, il Comune ha fatto leva sui danni milionari che a conti fatti subirebbero le casse municipali. Tra questi innanzitutto il mancato incasso della somma per l'acquisto dell'area da parte di Multi, circa 15 milioni di euro, poi le spese della bonifica, arrivate all'astronomica cifra di oltre 6 milioni e mezzo di euro e poi una serie di altri esborsi per l'iter della pratica. Infine, e questo è l'elemento nuovo che emerge ora, Palazzo Cernezzi accusa esplicitamente i privati del danno di immagine per una città che attende, quantomeno dal 2010, il completamento del progetto. E così, anche scaricando sullo multinazionale l'offuscamento dell'immagine cittadina a causa della palude di Via Grandi, il 22 dicembre scorso il Comune ha respinto senza appello ogni possibile accordo bonario e l'arbitro della contesa sarà quindi il Tribunale. Grazie a tutti.